Con Antonello Cattani di Q Consulenze Finanziarie parliamo di BTP e di fondi obbligazionari, in particolare degli effetti che si potrebbero avere in caso di rialzo dei tassi. Spieghiamo un po' il meccanismo che sta alla base dei BTP. Le BTP sono titoli di Stato a tasso fisso, quindi il discorso vale anche per obbligazioni a tasso fisso in generale. Quindi chi detiene risparmiatore che ha tra i propri investimenti direttamente un singolo titolo e lo mantiene fino alla scadenza, anche se può essere molto lunga, potrebbe anche non avvertire l'oscillazione di prezzo, perché quando si compra un BTP, quindi c'è un inizio, c'è una scadenza e ci sono delle cedole fisse, quindi il risparmiatore prende le sue cedole, aspetta la scadenza e sta generalmente tranquillo. Però nel corso della vita del titolo di Stato a tasso fisso, questo può subire delle oscillazioni che dipendono dall'andamento dei tassi di mercato, cioè se i tassi di mercato scendono generalmente il titolo a tasso fisso a un apprezzamento di valore, viceversa se i tassi aumentano a un depreciamento. Quindi se il risparmiatore fa da cassettista, ce lo tiene lì nel cassetto, diciamo che l'effetto può anche non essere avvertito. Mentre i fondi comuni che investono in obbligazioni sono obbligati a fornire al risparmiatore quotidianamente la sua situazione effettiva, cioè le cedole incassate ma anche le oscillazioni di prezzo. E questo diciamo che in caso, visto che in questi ultimi anni abbiamo avuto uno scenario favorevole, cioè tassi in calo, quindi prezzi in aumento e guadagni sia in conto capitale che cedolare. Negli ultimi sei mesi invece stiamo assistendo a un'inversione di tendenza, cioè tassi che anche se non stanno di fatto aumentando però stanno provocando un leggero calo anche nelle quotazioni. Quindi noi vediamo anche nel nostro ufficio che si presentano da noi clienti che hanno sottoscritto fondi obbligazionari essendo rassicurati dalle banche e che iniziano a vedere qualche segno meno ad esempio. E questo non se lo spiegano, quindi stiamo cercando un po' di farglielo capire. Quindi è un andamento non positivo negli ultimi tempi? Certo, infatti se vediamo in questa diapositiva, vediamo il rendimento evidenziato dalla freccia ad esempio dei fondi che investono in titoli obbligazionari governativi a medio e lungo termine, vediamo che negli ultimi sei mesi hanno registrato mediamente un meno 3,46% e dall'inizio dell'anno un meno 1, che non è in termini assoluti una catastrofe però per una tipologia di investimento che dovrebbe essere tranquilla, garantire comunque un minimo di rendimento a detta delle banche, in realtà vediamo che negli ultimi tempi si sta registrando questo effetto che è dovuto proprio a un calo dei prezzi che, ripeto, se l'esparmiatore al BTP in cassetto non se ne accorge ma nel fondo invece lo percepisce giorno per giorno. Ci sono delle possibilità, delle alternative per ottenere migliori rendimenti? Allora diciamo che, vediamo ad esempio questa terza diapositiva, spiega un po' questo fino a pochi mesi fa i gestori dei fondi quindi abbinavano al titolo di Stato sicuro anche titoli invece cosiddetti high yield, cioè ad alto rendimento alto rendimento però presuppone ovviamente un maggior rischio fino a pochi mesi fa diciamo che questo maggior rendimento effettivamente aveva un impatto positivo adesso come vediamo in questo grafico si vede come il rendimento anche dei titoli più rischiosi rispetto ai titoli di Stato sia effettivamente ormai analogo quindi diciamo che fino adesso hanno dato un qualcosina in più da adesso in poi riteniamo che sia difficile anche per il gestore dei fondi obbligazionari riuscire a dare qualcosa in più quindi quello che vediamo noi è che il risparmiatore ha più rischi perché ha obbligazioni magari anche rischiose e potenzialmente ha pochi rendimenti in prospettiva quindi occorre secondo me fare qualche riflessione in questo senso. Parliamo di un soggetto di cui spesso sentiamo parlare la BCE, la Banca Centrale Europea le sue politiche monetarie possono inevitabilmente influire sull'andamento dei nostri titoli di Stato? Certo infatti fino a questo momento hanno influito positivamente cioè nel senso che come vediamo in questa ultima diapositiva questo sono per dare un'idea le quantità di titoli di Stato che la BCE mensilmente compra quindi siamo in una media di intorno ai 10 miliardi di euro al mese più o meno solo di titoli di Stato italiani e quindi avendo diciamo un forte compratore sul mercato diciamo questo ha dato stabilità negli ultimi tempi però è bastato che la BCE riducesse anche di poco questo acquisto per fare appunto questo effetto contrario bisogna tener conto che fra un anno più o meno Mario Draghi cesserà il suo mandato alla BCE e i suoi possibili successori hanno già fatto intendere che molto probabilmente faranno delle politiche non così accomodanti diciamo e quindi se venisse a mancare un forte compratore sul mercato di BTP questo potrebbe avere degli effetti ancora più problematici oltre quindi che attendere di vedere chi sarà il successore di Mario Draghi nella torre di Francoforte quali sono e veniamo al concreto a ciò che interessa a tutti noi i consigli che si possono dare? i consigli sono quelli per chi detiene fondi obbligazionali di questa tipologia di guardare bene quindi noi come abbiamo sempre detto siamo sempre disponibili a fare un check up gratuito per risparmiatori per capire effettivamente le ragioni in caso in cui vedessimo dei segni negativi e quindi vedere già metterci mano prima che questi segni negativi possono diventare anche più ampi per chi invece fosse interpellato dalle banche che ovviamente fanno il loro lavoro e quindi vendono giustamente i loro prodotti di fare attenzione appunto a questi prodotti perché a volte vengono venduti in modo così garantito super sicuro mentre in realtà stiamo vedendo che il fondo comune proprio per tipologia non può essere garantito come capitale e quindi si può andare incontro anche a delle possibili perdite quindi di fare molta attenzione anche alle proposte che in questo momento ci vengono fatte di vagliarle attentamente soprattutto nei costi perché l'incidenza sicuramente è molto elevata visto che parliamo di rendimenti già bassi a volte questi rendimenti vengono anche diciamo falcidiati dalle spese bancaie che a volte determinano appunto anche delle situazioni negative Insomma mi sembra di capire che ancora una volta lo abbiamo detto in tante occasioni di sicurezza al 100% quando si parla di investimenti finanziari non si può mai parlare quindi appunto a maggior ragione per chi soprattutto è molto prudente quindi che va in questa direzione perché oggi purtroppo la situazione dei tassi è quella quindi si va in banca e si dice cosa si prende? Niente, devi fare questo, questo e questo quindi si va in fiducia diciamo ma questo fondo è obbligazionario perché c'è un po' questa nomea del fondo obbligazionario che è sicuro in realtà vediamo che possono nascondere anche dei segni negativi quindi attenzione che non diventino troppo elevati grazie a tutti